L'installazione meravigliosa, bellissima all'interno di quest'aeroporto, è una porta sul mondo per chi lascia Napoli e andrà in questo mondo qui rappresentato. Sono fotografie che mio padre ha raccolto nel corso di tanti anni, tantissimi anni di lavoro. Il suo approccio è sempre stato mai superficiale, sempre profondo, legando sempre la sua visione napoletana al rimando che potevano dare le altre città. Quindi c'è sempre questa solitudine, questa bellezza, anche in alcune città come San Paolo, che sono città molto dure, molto difficili da penetrare. Lui le ha sempre sorvolate, come un uccello guardandone dall'alto, estraneandosi dai rumori, dalla gente, dalle persone e portando sempre quell'essenzialità che è il tema principale del suo lavoro.